Carissimi bambini e carissimi ragazzi, come ogni anno, come ogni settembre, si avvicina l'inizio della scuola. Il copione è sempre lo stesso, si preparano pigramente gli zaini, mentre la nostalgia per l'estate appena passata si fa ancora sentire fortemente. Quest'anno però si respira un'atmosfera sicuramente particolare, densa di attesa e di apprezzione, cospicua apprezzione. Quello che si apre davanti a voi infatti è un anno molto speciale, ricco di sfide, sì, però che mai nessuno studente ha dovuto affrontare prima nella storia del nostro paese. Tornare a scuola o ancora più iniziare un percorso scolastico è di per sé sempre un evento che si imprime con forza nella vita di ciascuno di noi, che ci marca a fuoco. La scuola ti prepara la vita anche al di fuori delle lezioni e dei compiti. Condividere con i coetanei le gioie, ma anche le difficoltà quotidiane, dà il via a bellissime amicizie che durano una vita. Ma serve anche a forgiare il vostro posto nella società, mentre affrontare esami e compiti è il vostro primo vero banco di prova per affrontare situazioni di confronto che troverete sul vostro percorso di vita. Il prossimo anno rappresenta ancora di più che in passato un momento importante, unico, un'occasione per rivalutare il valore della scuola e soprattutto il rapporto con gli altri. Il periodo appena passato che ha posto necessarie limitazioni al nostro stile di vita avrà sicuramente fatto nascere in voi una voglia di libertà e di vivere appieno la vita. Ecco, mi auguro che questa consapevolezza possa motivarvi e accompagnarvi per tutto il vostro percorso di educazione e di formazione. Sono assolutamente certo che quest'anno in maniera particolare il vostro sarà un rientro a scuola carico e ricco di energia, di voglia di imparare e di arricchire la propria persona, la propria identità. Certo non mancheranno numerose sfide sul vostro percorso futuro e di iniziare un nuovo anno con restrizioni mai vissute prima non è certo cosa semplice. Non sarà facile per nessuno, sappiatelo, né per i dirigenti scolastici, né per gli insegnanti, né per gli alunni, né tantomeno per i genitori. Ma queste costrizioni non dovranno però abbattervi, anzi sono convinto che anche in un momento particolare come questo voi sarete in grado di trovare spunti per affrontare questo momento con tutta la fantasia e la forza di cui siete capaci e che grazie al vostro impegno e al vostro prezioso lavoro e soprattutto a quello dei docenti che quest'anno hanno doppiamente lavorato per voi sono sicuro che saprete trovare nuove modalità di incontro e nuove modalità di partecipazione. Per questo mi appello al senso di responsabilità non solo di voi studenti e delle vostre famiglie. Bastano delle semplici precauzioni per vivere questo anno scolastico in totale tranquillità. Grazie al rispetto di semplici regole la scuola può continuare ad essere il luogo ideale dove coltivare le vostre vocazioni. Per questo, cari ragazzi, vi dico studiate, perché studiare significa realizzare i vostri sogni, significa spianare la strada verso un futuro fatto di grande soddisfazione. Noi saremo al vostro fianco, ora più che mai, ma sarà vostro il compito di impegnarvi, di trovare dentro voi stessi le risorse e le energie per poter studiare al meglio, perché lo studio è lo strumento che vi consentirà, come dicevo, nella vita di avere i successi che meritate e di avere soddisfazioni come cittadini grossetani, come cittadini del mondo, sempre più proiettati verso la necessità di crescita culturale e di approfondimento. Mi raccomando ragazzi, studiate, noi siamo con voi. Viva Grosseto, buon anno scolastico.